Tempi d'attesa in calo per i codici bianchi e verdi, migliore gestione dell'urgenza e più privacy e confort per i pazienti e il personale medico. Sono i risultati della revisione strutturale e organizzativa del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara presentati oggi in occasione dell'incontro dedicato agli stati generali della sanità locale. Punti cardine della rivoluzione è la nuova sala d'attesa per gli accompagnatori, il rinnovo della sala Gessi, l'attivazione dell'ambulatorio RAU, Rapid Assistant Unit che rappresenta un servizio di valutazione rapida per i casi meno gravi e l'attivazione dell'infermiere di processo, una sorta di jolly sanitario che coordina il flusso degli assistiti, rivaluta i codici e garantisce continuità nella presa in carico della persona. Linee interessanti, questa separazione tra i livelli di appropriatezza nella frequentazione della struttura del pronto soccorso, direi vincente anche l'elemento della separazione anche per consentire agli accompagnatori di poter stare in maniera più tranquilla dentro le strutture, le riduzioni dei codici verdi, dei codici bianchi, dei codici gialli, diciamo che tutto questo in una condizione di aumento degli accessi. I dati a confronto tra il 2018 e il 2019 mostrano differenze evidenti, oltre ai tempi d'attesa già brevissimi, migliorati di un minuto per i codici rossi e di sei per i gialli, la statistica mostra sensibili riduzioni per i meno gravi. I codici verdi sono passati da un tempo d'attesa media complessivo di 2 ore e 32 minuti a 1 ora e 45 minuti, i codici bianchi da 2 ore e 33 minuti a 1 ora e 46. Se si analizza poi la slide che illustra la progressione marzo-settembre 2019, si può notare come i tempi d'attesa si riducano progressivamente mese dopo mese, mano a mano che la nuova e più efficiente organizzazione viene assorbita dal personale sanitario. Noi riteniamo che questo modello, definito dal dottor Cominotto con la sua equip, visti i risultati possa sicuramente essere esteso in altre strutture della regione.